quando vado al parco vorrei che fosse perfetto proprio con una tavola apparecchiata pronta per giocare cioè mangiare volevo dire ecco fatto c'è un problema e se il tavolo fosse pieno di rifiuti immondizie sporcizie che disastro beh una soluzione c'è rimboccarsi le maniche e pulire umido carta plastica alluminio secco vetro adesso sì che si può mangiare e giocare